Ormai attendiamo soltanto l'insediamento di Trump per capire come gli Stati Uniti potranno rientrare in gioco. Anche nel Mediterraneo centrale, nella nostra quarta sponda, la Libia oggi vede le navi russe a largo della Cirenaica. Il generale Haftar rientra in gioco, le Nazioni Unite che già avevano visto lo smacco del fallimento di Ginevra per quanto riguarda la Siria, sono di nuovo messe in discussione. Il vero uomo chiave è Putin. Astana sarà il primo banco di prova per vedere prima di tutto se gli Stati Uniti riceveranno questo invito e secondo per vedere come potranno coinvolgere il vero assente dal summit che sono i paesi arabi e soprattutto il popolo arabo. Turchi, iraniani e Russia che è effettivamente il punto di equilibrio tra mondi molto differenti e sempre in conflitto tra loro, decideranno quello che sarà l'equilibrio Euro-Mediterraneo per decenni.